Benissimo, ciao a tutti e benvenuti alla teleconferenza di approfondimento di questa sera. È una teleconferenza gratuita. Sapete che di solito queste teleconferenze sono riservate e sono riservate agli iscritti dei corsi online. Cominceremo questa teleconferenza, proprio parlando dei corsi online, faccio una brevissima presentazione. Vi ricordo che i corsi online sono in promozione da domani a 24 euro, anziché 39. È un'occasione per fare l'abbonamento, poi torneranno a 39 e ci saranno delle grosse novità in autunno, ci saranno delle grosse novità per il sito, stiamo lavorando delle cose molto interessanti e io direi che conviene approfittare adesso di questa offerta. Cosa sono i corsi online? Molti di voi che mi stanno seguendo sono iscritti, lo sanno bene. Il problema più grande che hai quando inizi a restaurare e a lavorare legno, in genere a fare lavori manuali, è che non puoi vedere come si fa. Non puoi vedere come si fa perché non si può più frequentare una bottega. Non si può più frequentare una bottega che era il vecchio sistema per poter proprio apprendere guardando, che è la cosa più facile. La cosa più facile è proprio vedere come si fa una cosa, provare a farla, magari sbagliare, rifarla finché non si fa bene. Questo è proprio... Funziona così dalle... Era così anche nelle botteghe rinascimentali. L'allievo mentre macinava i colori guardava il maestro dipingere e apprendeva proprio dal maestro. Spesso io ho delle persone che mi iscrivono, degli allievi che si iscrivono ai corsi, che sono nella totale confusione. Perché? Perché hanno guardato troppo YouTube. C'è quest'idea che guardando YouTube si possa apprendere a fare qualcosa. Per quanto riguarda il restauro, non è così. Se siete appassionati di restauro e di falegnameria, guardando i video, non riuscite a avere grandi rivelazioni perché un video di YouTube non ti mostra mai tutto il processo. Te ne mostra solo un pezzettino. Per cui tu guardi un pezzettino di qua, un pezzettino di là e non riesci mai a avere l'idea di tutto il processo. Sapete che il restauro, la lucidatura, anche la falegnameria, sono dei processi. Cioè tu devi mettere insieme tanti pezzettini, li devi fare uno dopo l'altro. Se li fai tutti bene, arrivi ad avere un buon risultato. E lo sa bene qualcuno di voi che si è recentemente iscritto ai corsi online, appassionato di restauro, che guardava solo YouTube, per cui sapeva fare dei pezzettini, però non riusciva a me. Non riesce a me. e comincia a mettere insieme tutti i pezzettini. Ma io questa cosa l'ho già vista da tanto tempo. Succede da tanti anni. Da quando ci sono i video che si pensa possano sopperire a quello che è una vera esperienza con un maestro. Con i corsi online entri in una vera bottega e puoi vedere come si restaura un mobile. I video e i testi sono tutti molto chiari e li puoi seguire comodamente da casa tua. Li puoi mettere in pratica oppure puoi guardarli e poi metterli in pratica quando ti servono. I corsi online nascono tanti anni fa, nascono insieme a artedelrestauro.it e rispondono alla domanda cosa avrei voluto io più di 30 anni fa quando ho iniziato a interessarmi di restauro e antiquariato. Avrei proprio voluto avere dei corsi così. Avrei voluto avere un maestro a cui poter fare delle domande, vedere come lavora e avere delle risposte. E questo lo trovate nei corsi online. Gli argomenti dei corsi online ci sono sia corsi base che corsi a un livello più avanzato e trattano di restauro e storia del mobile. Trovi tutte le ricette e impari a riconoscere i mobili. Facciamo proprio insieme tutta la storia del mobile partendo dai mobili più antichi partendo dal gotico. Approfondiamo poi però dal settecento in poi. Perché approfondiamo dal settecento in poi? Perché generalmente se si comincia a studiare storia del mobile partendo dal gotico e dal rinascimento quando si arriva al seicento si è già stanchi. Per cui il consiglio che do sempre ai miei allievi è e questo vale come regola generale non solo se seguite i miei corsi online. Cominciate ad approfondire lo stile che vi piace di più. Amate il mobile impero? Approfondite lo stile impero. Vi piacciono i mobili di design? Approfondite i mobili di design. Non fate mai la storia del mobile partendo dai mobili più antichi per arrivare al novecento. Perché è veramente un percorso lunghissimo. Anch'io quando ho iniziato ho fatto così. Allora mi piacevano i mobili impero. Ho cominciato ad approfondire i mobili impero. Poi ho approfondito i mobili Luigi XVI sono andato un po' indietro poi sono andato un po' avanti. Però diciamo che approfondendo quello che ti interessa siete anche più stimolati a vedere cose e a fare cose. Allora come si accede ai corsi online e all'abbonamento andate sul sito artedelrestauro.it cliccate su corsi online e vi trovate sulla pagina di presentazione. In questa pagina potete guardare il video c'è un video che vi spiega come funzionano i corsi oppure potete direttamente abbonarvi e quando entrate avete il vostro pannello di controllo dove ci sono dei percorsi che io ho studiato per chi si avvicina al mondo del restauro e dell'antiquariato. Per cui scegliete potete scegliere il percorso che preferite se siete a un livello molto all'inizio cominciate sicuramente con restaurare facile se no potete fare l'accademia del restauro che è già a un livello più avanzato dove c'è tutta la falegnameria del restauro un ulteriore approfondimento è il recupero dei mobili in patina oppure c'è tutto il percorso che riguarda storia del mobile. Storia del mobile diciamo che è un percorso che bisogna portare avanti insieme agli altri. Se decidete di fare un percorso ad esempio restaurare facile cliccate sul percorso e vi si aprono tutti i corsi cioè all'interno di ogni percorso ci sono dei corsi e se cliccate aprite proprio il singolo corso ogni argomento ogni lezione del corso sono dei video sono dei tutorial che ho realizzato nel mio laboratorio per anni ho fotografato i lavori più interessanti che facevo in laboratorio ho montato queste foto commentandole e ho creato proprio dei tutorial i tutorial come vi dicevo ci sono da molti anni e funzionano ve lo possono testimoniare i miei allievi ognuno decide di avvicinarsi al mondo del restauro per esigenze per esigenze diverse c'è chi lo vuole fare per hobby c'è chi lo vuole fare semplicemente per interesse io ho degli allievi che seguono arte del restauro perché sono appassionati di mobili antichi e mi dicono Carlo io quando vado a una fiera quando vado a un mercatino voglio riuscire a parlare con con l'antiquario con il commerciante riuscire a dialogare capire cosa mi sta dicendo interloquire capisco se mi sta vendendo un mobile vero o un mobile falso nello stesso tempo è interessante vedere come quello che studiamo e che vediamo dentro ai corsi allora quello che vale per il mobile vale per per tutta l'arte per cui quando imparate a riconoscere un mobile barocco e vedete una chiesa barocca sapete leggere i dettagli quando vedete un quadro barocco sapete leggere i dettagli di un quadro perché si tratta proprio di un linguaggio che bisogna imparare e quando l'hai imparato con questo linguaggio riesci proprio a a decifrare non solo il mondo dei mobili ma il mondo tutto il mondo dell'arte questo diciamo che è una delle cose più interessanti per chi si avvicina al mondo del mobile antico e del restauro non è solo fine a se stesso ma riguarda proprio l'approccio diciamo al mondo delle cose belle e al mondo e al mondo dell'arte una il cuore pulsante del del dei corsi online è il forum è il forum dove gli allievi impostano i loro lavori mi fanno le domande e io rispondo questa qui è una bella seggiolina ad ondolo che sta restaurando domenico lui mi posta la domanda ha cominciato già a restaurarla io vedete che gli rispondo ho evidenziato con dei cerchi rossi le cose che secondo me sono da rivedere in questo restauro e c'è proprio questo dialogo tra me e gli allievi questa è una cosa interessante perché riproduce il mondo della bottega quando tu sei a bottega mentre fai il tuo lavoro vedi anche il lavoro che stanno facendo gli altri vedi il lavoro che sta facendo il maestro vedi il lavoro che stanno facendo i tuoi colleghi in bottega l'esperienza è amplificata per cui non stai solo restaurando il tuo mobile ma diventi partecipe del restauro di tanti mobili per cui impari veramente impari veramente tante cose questo è Gianluca che sta restaurando un cassettone in pero che ha una brutta bruciatura sul coperchio e ad agio ad agio stiamo stiamo recuperando questo cassettone in parte in patina in parte sverniciamo e recuperiamo Gianluca è già piuttosto bravo e ognuno viene seguito al suo livello naturalmente io da chi segue i corsi da tanto tempo pretendo un po' di più chi entra all'inizio pretendo un po' di meno funziona proprio così anche nelle botteghe cioè quando tu entri in una bottega non ti fanno fare subito il cassettone del 600 comincia a fare i mobili del 900 e ad agio ad agio il maestro ti accompagna e ti porta a imparare sempre di più è proprio un po' quello che succede che succede nel forum non parliamo solo di di mobili antichi e di restauro ad esempio questa è una domanda che ha fatto recentemente Emanuela dovrà decorare questo mobile dovrà sciabbare questo mobile per cui si comincia con una valutazione del mobile è il caso di decorarlo non è il caso di decorarlo che tipo di preventivo faccio seguiremo poi tutto il lavoro della Manud sulla decorazione di questa di questa credenza questa ad esempio è è un post di Patrizia Patrizia segue i corsi online da da un po' di tempo ha fatto anche i corsi dal vivo in laboratorio e questo è un bel esempio secondo me queste sedie che ha appena che che ha appena postato nel forum sono seggioline milanesi sono sedie milanesi dell'ottocento che ha comprato su ebay per qualche decina di euro è veramente poco le aveva comprate per restaurarle e rivenderle perché è una cosa che impariamo a fare acquistare restaurare rimettere sul mercato i mobili restaurati ha deciso invece di tenere queste queste sedie le sta tappezzando con una stoffa molto bella con un un lisere in nei corsi online impariamo anche la tappezzeria dei mobili impariamo a riconoscere come si fa una tappezzeria fatta bene quali sono le stoffe più adatte da mettere sopra i mobili insomma è un percorso piuttosto piuttosto articolato perché un restauratore non deve saper fare non deve saper restaurare solo il legno ma se un restauratore conosce anche le stoffe se un restauratore sa restaurare anche il marmo riesce a offrire se sa restaurare anche le serrature riesce a offrire al cliente un diciamo un come dire io col discorso delle stoffe con tante clienti sono diventato quasi un consulente per l'arredamento no io non sono un interior design però consigliare una cliente su quale tipo di stoffa mettere sui mobili ti fa entrare in un rapporto di estrema fiducia col cliente e ti fa avere come dice giustamente patricia in diretta una marcia in più rispetto a tanti altri restauratori che ci sono sul mercato sicuramente chi esce dai corsi online ha veramente una marcia in più mi fa piacere che lo state lo state dicendo voi in diretta poi nei corsi online ci sono le teleconferenze che sono come quella che voi state seguendo in questo in questo momento sono teleconferenze di approfondimento riservate agli iscritti ai corsi gli argomenti di questi approfondimenti partono proprio dalle richieste degli allievi recentemente abbiamo fatto una teleconferenza sul colore nel restauro come usiamo i colore e i coloranti nel restauro stiamo facendo delle teleconferenze sulla lucidatura tampone e stiamo facendo degli approfondimenti molto molto interessanti tutto questo vi ricordo con con un solo abbonamento cioè voi entrate nei corsi online vi abbonate pagate un abbonamento mensile e avete subito l'accesso a tutti i contenuti e potete subito guardare le cose che più che più vi interessano va bene adesso la presentazione è stata veloce come vi avevo promesso torniamo ai fondamentali del restauro abbiamo già fatto delle teleconferenze gratuite aperte a tutti dove parlavamo abbiamo parlato dei fondamentali del restauro abbiamo già visto la sverniciatura le basi della falegnameria il trattamento antitarlo tutte le registrazioni delle teleconferenze gratuite le trovate su youtube sono disponibili sono disponibili per tutti in qualsiasi in qualsiasi momento l'argomento di questa sera è piuttosto articolato come dicevo prima non so se riusciremo a fare tutto il programma che ho pensato di fare però mi piaceva parlare delle finiture del legno finiture del legno è un termine un po' un po' tecnico diciamo che sono i falegnami che parlano di finitura di solito si parla di verniciatura o di lucidatura ma vediamo a che punto siamo nel nostro processo di restauro come sapete ci sono vari passaggi come vi ho già detto nel restauro il primo punto è sicuramente riconoscere il mobile di questo non abbiamo ancora parlato faremo delle teleconferenze di proprio di riconoscimento dei mobili poi se decidiamo di sverniciare il mobile c'è la sverniciatura dopo la sverniciatura è il momento migliore per fare l'antitarlo poi facciamo la falegnameria e trovate la registrazione di una teleconferenza proprio sulle basi della falegnameria dopodiché c'è quello che chiamiamo la preparazione del fondo che è stuccatura carteggiatura e coloritura la preparazione del fondo non è nient'altro che la preparazione del legno della superficie del mobile a ricevere la lucidatura perché è così importante la lucidatura la finitura come la definiscono appunto è una definizione un po' più tecnica dove però con cui però dobbiamo abituarci a avere a che fare è proprio la parte più superficiale del legno è quella che vediamo quando guardiamo significa come è stato finito il legno e con quali materiali il cassettone che vedete in questo momento è un cassettone del settecento qual è la sua finitura è stato finito a gomma lacca e da una finitura si dice a poro pieno lucida vedete che c'è proprio un riflesso della luce che batte sul frontale dei cassetti questo è un cassettone del sette piuttosto elegante richiede proprio un tipo di finitura di questo tipo cioè un tipo di finitura piuttosto piuttosto curato tra l'altro questo mobile è in patina cioè vuol dire che ha ancora la sua lucidatura originale per cui vedete che questo lucido sulla superficie si dice è patinato cioè è un lucido morbido non è un lucido brillante il lucido brillante è una finitura è una finitura un po' diversa diciamo il lucido brillante è una finitura che faccia è la finitura che c'è sui pianoforti neri laccati ecco quella è proprio una finitura lucida brillante e deve essere proprio una finitura così perché il mobile richiede una finitura così noi questa sera in realtà parleremo di una finitura molto semplice da fare che è anche molto di moda perché di moda perché il gusto negli anni è cambiato ma avremo modo di parlarne stavamo ancora proprio parlando della parola finitura la parola finitura si può usare anche di solito si usa verniciatura per cui finitura e verniciatura sono un po' un po' sinonimi perché finire il legno questa sera lo vedremo vedremo quali sono le finiture naturali approfondiremo l'olio e la cera e approfondiremo anche la gomma lacca perché queste sono le tre finiture naturali fra l'altro questa sera vi farò vedere come fare una finitura molto molto naturale piuttosto opaca o satinata proprio usando gomma lacca e cera per cui usando proprio sostanze naturali ci sono poi le finiture sintetiche che sono diventate molto importanti anche anche per me perché io per tanti anni ho lucidato e ho verniciato solo mobili antichi per cui ho usato solo gomma lacca e cera e poi diciamo da almeno una quindicina di anni mi sono avvicinato ho notato proprio che il gusto stava stava cambiando per cui noi in laboratorio abbiamo sempre anche decorato i mobili una decorazione che una volta si chiamava provenzale che poi è diventato shabby che poi è diventato industriale per cui proprio con la curiosità che deve essere proprio un po' tipica dei restauratori cioè l'approccio deve essere sempre molto curioso e molto aperto alle novità oltre alla lucidatura gomma lacca che è proprio la mia specializzazione ho portato avanti anche altre finiture per cui finiture dove si usano vernici e pitture sintetiche per ottenere delle superfici decorate per finire dei mobili shabby per finire dei mobili con finiture industriali mi sono avvicinato a questo discorso anche per i miei allievi perché avevo notato che i clienti si rivolgevano ai miei allievi che hanno già aperto un laboratorio e che stanno lavorando chiedendogli magari di fare una finitura shabby e loro non sapevano di cosa si stava parlando per cui i primi corsi di shabby e di decorazione sono nati proprio per i miei allievi perché dobbiamo saper fare anche questo perché non tutti i mobili sono antichi e non tutti i mobili vanno finiti lucidi per cui se noi abbiamo un tavolo degli anni 80 e vogliamo un tavolo degli anni 80 di nostra madre o di nostra nonna e vogliamo rimetterlo nell'arredamento dobbiamo essere in grado di fargli una laccatura di fargli una finitura shabby una finitura a cera insomma una finitura che ce lo renda più gradevole e in questo modo possiamo ancora recuperarlo per cui è un lavoro di restyling molto molto interessante che si fa e serve proprio anche per recuperare tanti mobili che altrimenti andrebbero andrebbero buttati per cui e qui finalmente parliamo degli egizi perché se parliamo di finiture naturali sono le finiture più più antiche sono le finiture più antiche l'uomo ha sempre l'uomo ha sempre finito le superfici cioè ha sempre trattato le superfici perché trattiamo le superfici trattiamo le superfici trattiamo la superficie del legno innanzitutto per proteggerlo e soprattutto per proteggerlo dall'umidità dall'umidità dall'usura e per decorarlo cioè trattiamo il legno in pratica per abbellirlo e quando dico questa frase mi sembra un po' di essere Alberto Angela già gli egizi decoravano i mobili e lo vedete lo vedete benissimo in questa immagine questo è un tavolino da gioco è un tavolino da gioco egizio e vedete che il legno è stato ebanizzato e il legno è stato ebanizzato ed è stato decorato per cui questo gusto da un lato il gusto per il decoro cioè il gusto di decorare il legno per rendere le superfici più belle e più gradevoli dall'altra parte il bisogno di proteggere il legno il bisogno di proteggere il legno si traduce proprio col fatto di mettere sulla superficie del legno alcune sostanze le sostanze più più antiche le sostanze più antiche usate per proteggere il legno sono proprio le sostanze più semplici più semplici da trovare anche anche in natura come come il bitume e la pece pensate solo all'esigenza di proteggere il legno delle imbarcazioni proteggere il legno delle imbarcazioni veniva usato proprio pece bitume oli cere sono proprio gli ingredienti più più naturali e più semplici da usare venivano usate anche le resine e vedremo vedremo di che cosa di che cosa si tratta allora cominciamo a parlare degli oli cominciamo a parlare degli oli perché sono sono tornati di gran moda io quando ero quando ero piccolo mio papà usava l'olio di lino cotto e ogni primavera dovevamo dare una una pulita e una carteggiata a tutte le parti di legno che erano esposte alle intemperie e bisognava fare manutenzione per cui una volta all'anno col pennello e uno straccio si passava l'olio di lino cotto questa cosa poi si è si è persa negli anni 60 70 sono arrivate sul mercato tutte le vernici sintetiche e gli oli non si sono più usati sembrava una cosa vecchia sembrava una cosa superata sembrava che le nuove vernici sintetiche facessero miracoli in realtà come vedremo non è stato proprio proprio così e c'è un grande ritorno ai prodotti naturali per finire per finire per finire il legno e gli oli devo dire che questa cosa è molto legata a youtube perché ci sono questi makers americani che lavorano in legno e fanno vedere proprio queste finiture fatte con gli oli sono finiture che al momento sembrano molto belle però sono finiture come vedremo che hanno qualche che hanno qualche problema come vi dicevo sono tornate di gran moda soprattutto perché consentono di fare in maniera veloce una lucidatura che abbia una superficie opaca cioè la superficie del legno rimane rimane opaca e incontra molto il incontra molto il gusto incontra molto il gusto delle persone sono vari gli oli che usiamo per per le superfici l'olio più comune è l'olio paglierino che noi in realtà non usiamo l'olio paglierino che noi in realtà non usiamo per allora informazione di servizio c'è un temporale che sta arrivando che è fortissimo se dovesse andar via la luce cade cade la teleconferenza però non preoccupatevi che che la riprendiamo la riprendiamo al più presto ecco ve lo dico adesso perché vedo proprio che fuori si sta scatenando si sta scatenando l'uragano dicevamo l'olio paglierino è un olio molto molto povero lo usavano tanto le nostre le nostre nonne non so se avete presente l'olio l'olio rosso che veniva dato sui sui mobili è proprio l'olio paglierino con è proprio olio paglierino con un con dentro dell'anilina per cui un olio paglierino colorato colorato di rosso che veniva dato sui mobili adesso non si usa più tanto anche perché è un olio che che macchia per cui cerchiamo di non dare oli sopra a vecchie lucidature perché l'olio dato sopra vecchie lucidature al momento sembra bello però se ci sono delle parti che non hanno più la vecchia lucidatura l'olio penetra nel legno e lo macchia lo stesso discorso vale per l'olio di lino crudo che è un olio di lino che veniva steso sul legno però l'olio di lino crudo non è siccativo cosa vuol dire vuol dire che non che non asciuga velocemente che non forma una che non forma una che non forma una pellicola sulla superficie penetra nel legno e basta l'olio diciamo migliore gli oli migliori da usare sono l'olio di lino cotto l'olio di tung è un olio che adesso è molto di moda il denish oil l'olio di lino cotto è un olio di lino che è stato portato ad alte temperature per cui è stato cotto e sono stati aggiunti dei minerali che lo rendono siccativo cosa vuol dire che lo rendono siccativo che polimerizza vuol dire che quando asciuga appena lo diamo sul legno lui penetra nel legno quando però il legno è impregnato perché in realtà si tratta proprio di un impregnante quando il legno è impregnato riusciamo a formare sulla superficie non una vera un vero film una vera pellicola però se diamo tante mani di olio di lino cotto e anche di olio di tung o di denish oil questi oli appunto siccativi riusciamo proprio a proteggere la superficie sono oli molto indicati per i legni che stanno all'esterno per cui un portone di legno che sta in esterno è molto indicato trattarlo con un olio di lino cotto con un olio di tung spesso questi oli sono miscelati tra di loro e sono miscelati e ottimizzati per avere un ottimo risultato adesso vediamo passo dopo passo proprio come si usa l'olio sulle superfici allora l'olio quello che vedete è un olio di lino cotto poi vedremo un olio un dennish oil e vedremo che differenza c'è tra il dennish oil e l'olio di lino cotto allora noi abbiamo l'olio di lino cotto e con con un pennello un pennello qualsiasi lo stendiamo sulla superficie in questa fase di solito l'olio di lino cotto lo diluiamo del 50% cioè facciamo una parte di olio di lino cotto una parte di solvente di essenza di trementina questa prima mano diluita penetra in profondità penetra in profondità nel legno un passaggio molto importante quando facciamo le finiture con l'olio è di asciugarlo cioè noi dobbiamo dare in maniera abbondante l'olio sulla superficie lasciarlo penetrare qualche qualche tempo si vede proprio che penetra quello che rimane in superficie lo dobbiamo asciugare lo dobbiamo asciugare e dobbiamo lasciare il legno almeno 24 ore meglio 48 cioè più lasciamo il legno asciutto imbevuto di olio più il legno se lo beve proprio se lo assorbe e non deve rimanere niente in superficie dopodiché diamo la seconda mano i tempi di asciugatura dell'olio di lino cotto purtroppo sono molto lunghi per cui ci vogliono anche 48 ore prima prima che asciughi la superficie diamo la seconda mano lo stendiamo bene e facciamo di nuovo un'asciugatura cioè lo asciughiamo perché se lasciamo sulla superficie delle pozzanghe di olio queste diventano appiccicose l'olio polimerizza sulla superficie e non penetra più per cui io ricevo spesso mail di persone che hanno steso l'olio di lino cotto non l'hanno non l'hanno asciugato bene e sulla superficie rimane sempre questa patina piuttosto appiccicosa è un po' un problema perché dopo se è polimerizzato non si riesce a tirare via in maniera molto agevole bisognerebbe proprio sverniciare per cui il trucco vero è asciugare molto bene la superficie sia dopo la prima mano che dopo la seconda mano l'olio penetra in profondità vedete come la luce non si ferma sulla superficie ma penetra in profondità per cui vedete come escono i disegni delle venature tutte le marezzature le marezzature del legno qui a destra vedete un confronto tra la stessa tavoletta è una tavoletta impiallacciata di noce tanganica vedete l'olio di lino cotto come ha colorato il legno mentre invece come la gomma lacca non lo colora cioè pur essendo la gomma lacca leggermente colorata vedete che non riesce proprio a scaldare perché perché la gomma lacca penetra anche meno in profondità e non riesce a portare la luce così così in profondità per far penetrare la luce in profondità con la gomma lacca bisogna fare una lucidatura a tampone dentro i corsi online trovate proprio un video corso sulla lucidatura a tampone a gomma lacca che vi spiega proprio passo passo come si fa la lucidatura a tampone però vedete che l'olio di lino cotto ha dato ha fatto un bel servizio perché ha protetto protegge il nostro legno e vedete che gli ha dato colore e gli ha dato anche profondità per cui non è una cattiva finitura è una finitura che in genere non usiamo negli interni ma usiamo per gli esterni come vi dicevo prima qual è il problema dell'olio che ha bisogno di manutenzione cioè una volta all'anno bisogna dare una spaiettata una leggera carteggiata al legno e dagli un'altra mano di olio di lino cotto è una cosa che una volta si faceva cioè l'idea di fare manutenzione alle cose una volta era proprio radicata era proprio radicata nel modo di fare e nel modo di vivere ecco qui invece vediamo il Danish oil vedete la differenza anche proprio di colore e di c'è anche proprio una differenza di viscosità tra l'olio di lino cotto e il Danish oil in realtà il Danish oil allora è un po' un segreto la ricetta del Danish oil non si trova ci sono delle ricette di Danish oil che circolano è una miscela di oli c'è dentro sicuramente l'olio di lino cotto poi c'è dell'olio di tung l'olio di tung è un olio è un olio vegetale l'olio di tung è sempre stato chiamato l'olio cinese è un si ottiene per spremitura di semi di una pianta è un olio naturalmente molto siccativo per cui nel Danish oil c'è olio di lino cotto olio di tung e c'è anche una resina non abbiamo ancora parlato delle resine però le resine sono dei prodotti naturali che aiutano proprio a creare dei film sulla superficie del legno a penetrare anche in profondità nel legno e io ho ho usato il Danish oil proprio per provare a usarlo perché in tanti in tanti ne parlano noi come tradizione siamo più legati diciamo all'uso dell'olio di lino cotto il Danish oil ha il vantaggio di essere più più veloce cioè asciuga in 5-6 ore non bisogna aspettare 24-48 ore quella che vedete a sinistra è una tavoletta di diabete spazzolato e finito col Danish oil vedete che dando alcune mani si ottiene una superficie piuttosto piuttosto satinata vedete che è una superficie un po' più lucida della superficie che abbiamo visto prima fatta con l'olio di lino cotto io ho visto dei restauratori che finiscono ad esempio dei mobili vintage col Danish oil cioè mobili di gusto di gusto nordico che richiedono una finitura non troppo lucida una finitura anche veloce da fare per cui il Danish oil direi che potrebbe essere un olio diciamo da provare se siete appassionati di queste cose a destra vi ho messo alcune tavolette che vi fanno vedere come colorano in maniera diversa le gommalacche e gli oli quando quando li usiamo vedete che c'è la gommalacca poi c'è l'olio di lino cotto il Danish oil ha dato un colore diverso ogni Danish oil ha un po' il suo il suo colore e poi l'ultima tavoletta è quella finita gommalacca tampone che diciamo che è la lucidatura più più articolata più più lunga da fare però vedete come la luce penetra in profondità nella tavoletta finita tampone la luce che avevamo detto già nell'olio avevamo visto la differenza tra una gommalacca stesa a pennello e l'olio di lino cotto abbiamo visto che la luce penetrava di più nella finitura gommalacca la luce penetra ancora di più perché noi andiamo a riempire tutto il poro del legno con la gommalacca la gommalacca scende in profondità più va in profondità la gommalacca più la luce penetra in profondità e quando la luce penetra in profondità viene poi riflessa dalla superficie e porta fuori proprio tutte le venature le marezzature le radiche le piume diciamo l'aspetto bello l'aspetto bello del legno concetto mi chiede in diretta fare andare l'olio più in profondità nel poro significa avere una miglior lucentezza esatto concetto stavamo parlando proprio adesso più noi riusciamo a far penetrare la luce in profondità più abbiamo una una luce riflessa se noi non lucidiamo bene la superficie abbiamo una luce diffusa cioè la luce arriva sulla superficie e si perde un po' in tante direzioni con la gommalacca tampone riusciamo riusciamo a farla penetrare il limite degli oli è che vengono poi assorbiti dal legno non rimangono in superficie per cui non riesco mai ad avere una superficie lucida per cui la superficie trattata con gli oli è sempre una superficie piuttosto opaca dunque ditemi se è tutto chiaro fino adesso che noi andiamo avanti va bene luce dice di sì ok va bene e abbiamo visto abbiamo visto gli oli un'altra finitura molto naturale molto di moda anche anche questa è la finitura a cera la finitura a cera è una finitura anche questa molto molto antica le finiture antiche venivano fatte semplicemente con con della cera ad api vedremo che ci sono delle cere sia animali che vegetali che consentono appunto di fare delle finiture opache o satinate in realtà con le cere si riescono a avere anche superfici molto lucidi lucide però sono processi piuttosto articolati e sono lucidature difficili difficili da fare noi questa sera vedremo una finitura a cera molto semplice da fare ma che ci dà un bel effetto un bel effetto opaco e o satinato le cere che usiamo principalmente nel restauro sono la cera d'api e la cera carnauba le cere in realtà sono moltissime molte cere sono di sintesi sono derivati dal petrolio una di queste è la cera micro cristallina e ve ne parlo perché mi sembra di aver visto dei prodotti che vengono delle cere che vengono messe sopra le finiture shabby dei mobili cioè sopra le decorazioni dei mobili vengono messe queste cere micro cristalline perché sono cere che cristallizzano e si ottiene una superficie molto dura molto resistente le cere micro cristalline vengono usate nel restauro per proteggere i marmi i ferri i legni che sono in esterno per cui è una cera che forma un film sulla superficie molto duro e molto e molto lucido è una cera sintetica come la paraffina la paraffina è una cera che non usiamo nel restauro perché è una cera che non ha diciamo non ha delle prestazioni eccezionali la paraffina è opaca pesa molto fa volume e viene usata per adulterare in realtà le altre cere usiamo la paraffina quando facciamo il decoro shabby per cui tra una mano di colore e l'altra diamo la paraffina proprio per avere poi dei distacchi e dei punti di usura che sono proprio tipici del decoro shabby per cui di solito quando parliamo nel restauro di cere parliamo di encaustico l'encaustico non è nient'altro che un insieme che è un insieme di cere noi facciamo l'encaustico la ricetta poi ve la do è molto molto semplice al corso base lo prepariamo prepariamo sempre l'encaustico dentro il corso online trovate le ricette e vedete proprio come si fa passo passo a preparare l'encaustico nel l'encaustico c'è cera d'api cera carnauba che è una cera vegetale molto dura e molto brillante che ha un punto di fusione più alto rispetto alla cera d'api per cui dà maggior protezione al mobile quando quando la usiamo poi usiamo essenza di trementina e bitume di giudea il bitume di giudea è un bitume un asfalto che è un prodotto che si usa anche nelle belle arti per proprio per patinare i quadri si usa anche per patinare le dorature noi usiamo il bitume di giudea per colorare la cera e la cera colorata si chiama cera bituminosa per cui dopo vedremo per cosa usiamo la cera la cera bituminosa quando prepariamo però l'encaustico facciamo anche sempre un encaustico neutro che è quello che vedete nell'immagine un encaustico neutro ci serve per i mobili che vogliamo lasciare chiari usiamo usiamo l'encaustico neutro sui marmi quando restauriamo i marmi e abbiamo bisogno di far riprendere la patina rimettere in patina il marmo usiamo l'encaustico e adesso vediamo un piccolo tutorial dove vi faccio vedere una finitura a cera e poi la tavoletta la finiamo con i due encaustici finiamo con l'encaustico neutro e con la cera bituminosa con l'encaustico colorato così vediamo da vicino proprio le differenze che ci sono nell'uso nell'uso di di queste due cere Domenico mi chiede in diretta l'essenza di trementina è vegetale si può sostituire allora l'essenza di trementina non è vegetale l'essenza di trementina era vegetale quando era un distillato della resina dei pini per cui non so forse fino agli anni 30 40 l'essenza di trementina adesso è un derivato del petrolio si può sostituire si può sostituire l'essenza di trementina ad esempio con il limonene che ha questo buon profumo di arance anche il limonene non è naturale per cui quando trovate le cere che contengono limonene e hanno l'indicazione cera ecologica cera bio non è vero niente sono prodotti chimici ha solo il profumo delle arance il limonene quello veramente spremuto cioè distillato dalla buccia delle arance viene usato in ambito alimentare però con dei processi con dei processi particolari per cui domenico diciamo di solito nell'encaustico usiamo l'essenza di trementina si potrebbe usare anche l'acquaragia però secondo me l'acquaragia non va bene perché è troppo secca e invece l'essenza di trementina è più grassa impiega più tempo a evaporare però dà un risultato migliore io ho fatto degli encaustici con sia con limonene che con l'acquaragia però il risultato migliore lo dà sempre l'essenza di trementina pensate che ci sono delle vecchie ricette sui manuali di encaustici fatti allora degli encaustici veloci cioè che devono asciugare molto velocemente per cui anziché l'essenza di trementina nelle ricette c'è il benzene il benzene evapora molto velocemente sapete che però il benzene è proprio cancerogeno per cui non fidatevi troppo delle vecchie ricette cioè va bene guardare le vecchie ricette però magari per interpretarle oppure me le mandate se trovate una vecchia ricetta me la mandate io sono un po' diciamo un cultore di queste cose le ho abbastanza approfondite e sperimentate e così vi dico cosa fare e cosa non fare perché ci sono delle vecchie ricette col benzene delle vecchie ricette con l'alcol metilico che sapete che che provoca il distacco della retina per cui non fidatevi troppo delle c'è un po' quest'idea che le vecchie ricette sono più naturali assolutamente non è non è vero ok ecco questo è il particolare della cera bituminosa il colore che vedete a sinistra è proprio il colore del bitume vedete che ha un colore piuttosto forte però ha una bella dominante rossa ha una bella dominante calda che noi lo usiamo nel restauro proprio alla fine la cera bituminosa lo usiamo si dice per scaldare il mobile per patinare il mobile cioè per per dargli quel sapore di mobile di mobile antico se durante il restauro l'abbiamo sverniciato poi l'abbiamo rilucidato il mobile perde un po' diciamo il suo sapore l'uso della cera bituminosa mi aiuta mi aiuta alla fine proprio per patinare per patinare il mobile ecco il colore poi della cera decidiamo noi che colore fare la cera bituminosa possiamo mettere poco bitume possiamo mettere tanto bitume in un laboratorio di restauro di solito ci sono due o tre colori diversi due o tre due o tre colori diversi vedete sul pezzettino di legno a destra il 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 colore che riesce poi a dare la cera bituminosa non è così impegnativo non è così pesante come proprio il colore il colore del bitume ok ecco questi sono altri due usi della cera bituminosa a sinistra vedete l'uso che ne facciamo noi nel restauro come vi dicevo sui mobili dopo che sono stati lucidati viene passata la cera proprio per smorzare il lucido e per dargli un sapore più patinato nel decoro shabby diamo la cera bituminosa quando vogliamo mettere in risalto gli spessori e gli intagli ad esempio noi finiamo il decoro diamo una vernice protettiva poi sopra finiamo con con la con la cera bituminosa la stracciamo e la cera rimane nei segni del pennello negli intagli negli spessori e da molto da molto volume al decoro è proprio una tecnica questa delle cere che si usa proprio anche nella decorazione nella decorazione dei mobili naturalmente il nostro incaustico possiamo anche colorarlo per cui se aggiungiamo dei pigmenti otteniamo delle cere colorate e a destra vedete proprio una cera bianca che usiamo a volte proprio per fare delle finiture shabby con un pennello sporco di cera però sporco poco passiamo a volte sugli intagli per dare come dei colpi dei colpi di luce quella che vedete invece è proprio una ceratura per cui una superficie che una superficie che viene che è stata lucidata proprio con la cera è una superficie di abete che è stata spazzolata e vedete che vedete che che lucido che riusciamo anche a tirar fuori questo lucido che tiriamo fuori con successive passate stracciature è il lucido della della cera carnauba cioè quel punto di luce lì che vedete è proprio il lucido della 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 cera carnauba allora Gabriele mi chiede in diretta se l'encaustico si può fare con la trementina veneta io non l'ho mai usata la trementina veneta entra in moltissime in moltissime ricette però non è un solvente che io uso per preparare per preparare l'encaustico va bene se ci sono delle domande su questo discorso dell'encaustico e della colorazione delle cere fatemele pure perché passiamo a parlare delle resine delle resine naturali e e poi vediamo ho preparato diciamo un piccolo tutorial che vediamo proprio una finitura a cera facendo però una base con una resina con una resina naturale Elisabetta dice il bitume si miscela con la cera sì Elisabetta quando sciogliamo le cere quando sciogliamo le cere e le mettiamo insieme aggiungiamo prima l'essenza di trementina l'essenza di trementina serve per mantenere l'encaustico morbido cioè noi dobbiamo ottenere come una pasta cremosa per poterla stendere col pennello senza scaldarla tutte le volte per cui sciogliamo le cere le uniamo gli mettiamo l'essenza di trementina e poi e poi alla fine aggiungiamo il bitume e ne aggiungiamo poco alla volta finché non raggiungiamo proprio il colore il colore che ci serve Beniamino mi chiede in diretta va sempre usato un mordente dopo sverniciato il mobile per poi applicare la gomma lacca e le cere dipende dipende Beniamino dipende da che risultato vuoi ottenere noi questa sera vedremo come finire una superficie senza dare senza dare il mordente proprio perché ci interessa ottenere una superficie che mantenga il suo colore vedremo però come con un encaustico colorato possiamo correggere scaldare diciamo questo colore le resine naturali dopo aver visto gli oli e le cere vediamo le resine naturali anche le resine naturali possono essere vegetali o animali la gomma lacca che è la resina che usiamo per lucidare i mobili è animale la gomma lacca è la secrezione di un insetto che viene allevato in india proprio per produrre per produrre la gomma lacca ci sono invece delle resine naturali che sono di origine vegetale come la copale l'elemi l'elemi è quella che vedete nell'immagine oppure il mastice queste resine sciolte in un in un solvente ci danno una vernice cioè la vernice non è nient'altro che una resina sciolta dentro un solvente a un solvente ci sono delle delle resine che si sciolgono negli oli e ci sono delle resine invece che si sciolgono nell'alcol per cui formiamo delle vernici all'olio o facciamo delle vernici a spirito si dice la vernice che facciamo noi principalmente nel restauro è una vernice alcolica ed è la vernice di gomma lacca ecco nelle resine ci sono anche delle resine vegetali fossili come l'ambra ad esempio l'ambra è la resina fossilizzata di piante antichissime e l'ambra viene usata come diciamo con l'ambra si possono fare delle collane si possono fare dei gioielli ma l'ambra è anche una resina che sciolta in un solvente fa una vernice e l'ambra è già una resina piuttosto piuttosto difficile da usare perché non si scioglie in un solvente in un olio per poterla scioglierla bisogna portarla ad alta temperatura bisogna fare un processo che si chiama pirogenazione è un processo che gli antichi conoscevano perché queste queste resine molto molto dure che devono essere sottoposte a questo processo facevano proprio parte di di vernici usate usate anticamente per cui sono processi conosciuti e praticati da tantissimo da tantissimo tempo ecco vediamo allora questa sera proprio passo passo come fare una bella finitura a cera perché dico bella finitura a cera perché se noi sul legno diamo solo la cera otteniamo una finitura molto molto povera cioè noi possiamo dare sul sul legno del nostro mobile solamente la cera però questa cera in parte viene assorbita e appena il poro del legno si apre appena c'è un po' di usura sulla superficie non abbiamo niente per cui la superficie si macchia molto facilmente si usura molto facilmente per cui faremo questa finitura a cera che è la finitura a cera che facciamo anche noi in laboratorio che io consiglio sempre di fare ai miei allievi come prima lucidatura cioè quando restaurate il primo mobile fate sempre una finitura a cera è la finitura più semplice da fare vi da subito soddisfazione avete subito la gratificazione del lavoro che state facendo e questo vi spinge poi a perfezionarvi ulteriormente per cui dicevamo possiamo fare una finitura opaco satinata facciamo una base di gomma lacca la finiamo con un encaustico se non fate l'encaustico potete usare anche una cera per mobili che trovate in commercio è facile da fare però come dicevamo prima è una finitura che ha bisogno di è una una finitura che ha bisogno di manutenzione cioè se noi facciamo un mobile finito a cera una volta all'anno dobbiamo dargli un'altra mano un'altra mano di cera è una cosa che una volta che una volta si faceva allora naturalmente vi faccio vedere l'esempio su una tavoletta diamo la prima mano di gomma lacca per cui noi abbiamo la superficie di legno la superficie del nostro mobile che abbiamo stuccato carteggiato abbiamo fatto quello che dovevamo fare diamo la prima mano di gomma lacca questa prima mano di gomma lacca ha una duplice funzione cioè io metto sulla superficie del legno una resina che in parte penetra nel poro in parte mi aiuta a fissare il pelo che cos'è il pelo del legno sono le fibre le fibre del legno quando noi tocchiamo una superficie che non è mai stata lucidata la superficie è ruvida il ruvido della superficie è dato proprio dalle fibre del legno quando noi carteggiamo il legno in parte rasiamo in parte tagliamo queste fibre in parte le schiacciamo allora per poterle eliminare completamente per poter avere una superficie morbida e una superficie pulita che riflette la luce abbiamo bisogno di tagliarle completamente per tagliarle le fissiamo con una mano di gomma lacca la ricetta base della gomma lacca molti di voi la conoscono per cui la vernice di gomma lacca è una vernice alcolica e la prepariamo mettendo 200 grammi di gomma lacca in un litro di alcol a 99,9 allora riguardo l'alcol 99,9 io lo consiglio sempre molti miei allievi usano il 94 o il 95 che si trova in commercio più facilmente in questo periodo io non si trovava l'alcol 99,9 ho acquistato dell'alcol a 94 e ho fatto delle lucidature devo dire che mi sono proprio reso conto della differenza tra usare un olio scusate un alcol a 94 e un alcol a 99,9 l'alcol a 99,9 non ha non contiene acqua non ha nessuna percentuale di acqua evapora molto velocemente ci consente di fare delle lucidature più veloci e la gomma lacca non sbianca per cui io vi consiglio se decidete di preparare la vernice di gomma lacca di acquistare l'alcol 99,9 lo trovate anche nei brico si trova nei colorifici specializzati e nei brico l'alcol a 99,9 c'è è una vernice che si prepara a freddo e quando l'avete preparata si mantiene se la tenete chiusa si mantiene praticamente per sempre trovate proprio passo passo come fare la vernice di gomma lacca dentro ai corsi online c'è proprio la bc del restauro sono tutte le ricette come si prepara la gomma lacca come si prepara l'incaustico come si prepara il mordente come si preparano le aniline allora abbiamo dato la prima mano di gomma lacca come dicevamo prima dobbiamo tagliare il pelo possiamo fare questo lavoro utilizzando una carta abrasiva molto fine io di solito uso una 400 oppure una paglietta d'acciaio storicamente si è sempre usata la paglietta di acciaio 4 0 che è la paglietta più fine quella che vedete nell'immagine oppure la paglietta sintetica la paglietta sintetica che qualcuno chiama anche la trovate in commercio anche come panno abrasivo è un'ottima soluzione è quella che usiamo in laboratorio perché vi consente di spaiettare la superficie e allora il problema della paglietta della paglietta d'acciaio è che si rompe si frantuma per cui avete polvere di acciaio dappertutto la paglietta sintetica invece non si rompe rimane compatta taglia molto bene e non si distrugge praticamente mai per cui a seconda di che tipo di spaiettatura dovete fare se tagliare di più o se tagliare di meno potete usare una paglietta anche molto usata io la consiglio la consiglio vivamente la paglietta sintetica anche la paglietta sintetica ha delle grane come come la carta abrasiva quella rossa di solito è una grana è una grana media allora io in queste due immagini vedete che sto prima passo la 400 poi passo la paglietta sintetica per cui carteggiatura e poi spaiettatura quel dito lì che vedete che non è neanche tanto a fuoco serve proprio per farvi vedere la superficie che noi andiamo a carteggiare e spaiettare deve essere molto asciutta la gomma lacca deve essere molto asciutta e deve si dice proprio spolverare cioè sulla superficie deve formarsi proprio una polvere bianca quella polvere lì è tutto il pelo del legno e se la carta non si impasta vuol dire che la gomma lacca è asciugata bene per cui dobbiamo fare asciugare bene la gomma lacca calcolate un giorno tra una mano e l'altra per cui passiamo prima la carta poi passiamo anche la paglietta per cui facciamo una carteggiatura una spaiettatura a questo punto abbiamo una superficie che come vedete che non so se notate comincia già un po' a riflettere la luce perché abbiamo dato una mano di resina tolto il pelo che è quello che impedisce alla luce di essere riflessa per cui abbiamo una superficie che comincia a essere è sempre opaca però comincia a riflettere leggermente la luce tra una mano e l'altra facciamo sempre un lavoro di pulizia per cui aspiriamo e poi passiamo lo straccio dopodiché diamo la seconda mano di gomma lacca con la seconda mano di gomma lacca vedete che aumenta la riflessione della luce sulla superficie queste due mani di gomma lacca mi sono già servite cioè va bene così per questo tipo di lucidatura la prima mano mi serve per fissare il pelo e carteggiare la seconda mano va a mettere resina dentro il poro e come dicevamo prima la luce comincia a penetrare nel poro e a essere e a essere riflessa su questa base diamo la cera per cui facciamo la ceratura su una base molto facile da fare avete visto due mani a pennello di gomma lacca creiamo la base per fare la finitura che è a cera per cui proprio una ceratura qui c'è la ricetta dell'encaustico l'encaustico lo facciamo su un fornello elettrico come dicevamo prima 250 grammi di cera di cera d'api 25 grammi di cera carnauba bitume di giudea quanto basta proprio per ottenere il colore che desideriamo per cui più o meno colorata e un litro di essenza di trementina o limonene e adesso io ho diviso la tavoletta in due e un lato lo finiamo con la cera bituminosa un lato lo finiremo con la cera con la cera neutra e leonora mi chiede in diretta la paglietta sintetica per la lucidatura gomma lacca va presa fine o extra fine la paglietta sintetica io la prenderei fine perché extra fine potrebbe tagliare poco cioè potrebbe essere troppo fine e non riesce proprio a rasare a rasare il pelo per cui ti consiglio di prendere una grammatura media tanto più che come dicevo prima più la usi meno taglia per cui puoi tenerti noi in laboratorio abbiamo uno scatolotto con dentro tutte le le pagliette usate e proprio a seconda del tipo di spagliettatura che vogliamo fare usiamo una paglietta più o meno consumata Michele dice la seconda mano di gomma lacca va spagliettata dunque Michele dipende da che tipo di finitura vuoi fare cioè più spaglietti meglio è però se spaglietti poi gli devi dare un'altra mano di gomma lacca cioè bisogna sempre finire con una mano di gomma lacca per cui questo processo che noi abbiamo fatto molto semplice in due mani lo potete fare in tre in quattro cioè dare tre o quattro mani l'importante ecco che non che non ho detto la gomma lacca deve essere piuttosto diluita non usate la gomma lacca troppo concentrata perché se no sulla superficie tende a fare un film e il film riflette la luce fa un po' il crostone si dice per cui cerchiamo di evitare di usare una gomma lacca troppo concentrata cioè la gomma lacca la ricetta che vi ho dato prima 200 grammi in un litro la diluiamo almeno del 50% e la usiamo due passaggi bastano se ne facciamo tre o quattro aumentiamo il lucido cioè facciamo una finitura meno opaca cominciamo a fare una finitura più satinata ok Domenico dice la cera serve anche per eliminare il lucido troppo lucido giusto io trovo che diluire la gomma lacca e dare più mani ha lo stesso effetto probabilmente solo un'impressione dunque Domenico allora la cera serve a eliminare il lucido troppo lucido della gomma lacca quando facciamo una lucidatura tampone però che è una cosa diversa diluire la gomma lacca e dare più mani non ha lo stesso effetto che lucidare a tampone e poi dare la cera cioè dare tante mani a gomma lacca ottiene un effetto satinato non riuscirai mai a ottenere un effetto lucido come la lucidatura a tampone a gomma lacca che è una cosa di cui questa sera non abbiamo non abbiamo parlato allora vedete che io stendo la la cera bituminosa col pennello e passo subito lo straccio cioè faccio una prima stracciatura poi passo la cera neutra e faccio un'altra stracciatura e questo diciamo è il risultato vedete come la superficie si è colorata in maniera diversa vedete come io usando la la cera bituminosa ho aggiunto anche colore alla superficie naturalmente più il legno è lucido meno la cera riesce a lucidarlo perché più il legno è grezzo più il legno è ruvido più la cera penetra in profondità adesso vi faccio vedere un particolare vedete questo particolare questo è quello che vedete a destra è la parte che è stata trattata con la cera bituminosa vedete sulla superficie ci sono tutti quei puntini neri quei puntini neri lì è il poro del legno che si è colorato con la cera bituminosa per cui più ho il poro aperto più la cera mi colora ditemi se questo passaggio è chiaro perché questa è una cosa importante per cui se voi su un legno volete tenere il colore il più naturale possibile usate una cera non colorata una cera neutra se invece oltre al lucido alla superficie del mobile volete dare un colore usate una cera una cera bituminosa Lucio dice ha senso passare prima la cera neutra e poi la seconda mano la cera bituminosa si ha senso perché tu dai la prima mano di cera neutra che comincia a riempire il poro e poi dai la seconda mano di cera bituminosa in questo modo dai meno colore però se fai una finitura di questo tipo diciamo che non non ha senso non direi di non complicare di non complicare le cose ecco abbiamo visto questo non dietro un attimino per farvi vedere il tipo il tipo di lucido vedete abbiamo dato due mani di gomma lacca abbiamo una finitura piuttosto opaca se noi avessimo dato qualche mano in più di gomma lacca e anche qualche mano in più di cera perché possiamo anche dare due o tre mani di cera dare una mano stracciarla lasciarla asciugare dare un'altra mano stracciarla lasciarla asciugare di nuovo aumentiamo il lucido andiamo diciamo verso un aspetto verso un aspetto satinato dunque Michele chiede ma poi dopo la cera non si lucida con un panno di lana no io non uso mai la lana sulla cera ma usiamo sempre il cotone per cui dopo dopo l'asciugatura si facciamo un'altra stracciatura e otteniamo però panno di lana meglio lasciar perdere perché se la lana lascia i peli fanno corpo unico con la cera fanno su un po' di patacone ok vedete che abbiamo ottenuto un lucido un lucido morbido secondo me questa è una bella lucidatura che incontra molto il gusto dei clienti e delle persone potrebbe essere proprio una finitura molto semplice da fare su un mobile magari piuttosto rustico e anche su un mobile dell'ottocento oppure anche su un mobile nuovo cioè un mobile fatto di legno nuovo se vi dilettate di falegnameria questa potrebbe essere una buona finitura siamo nell'ambito delle finiture naturali per cui se volete fare della falegnameria e volete costruire un lettino per un bambino sicuramente faremo una finitura di questo tipo facciamo una finitura di gomma lacca e poi una ceratura anche se facciamo dei giocattoli possiamo fare una finitura di questo tipo è una finitura molto semplice naturale non ha emissioni di nessun tipo si può usare una calza di nylon per tirare la cera come dice Silvia in diretta tieni presente che il nylon dà un colpetto di lucido cioè più usi il nylon più la cera si lucida per cui dipende un po' da che risultato vuoi ottenere Silvia ecco vediamo velocemente le resine sintetiche sarà motivo di un approfondimento che faremo in una prossima teleconferenza le resine sintetiche trovate anche un articolo sul blog che ho pubblicato proprio in questi giorni le resine sintetiche sono state inventate dall'uomo per sostituire tutte quelle resine naturali che abbiamo visto prima perché perché le resine naturali sono naturali non sempre ci sono non sempre sono uguali a se stessa un anno ci sono state delle inondazioni in India quell'anno lì non c'è stata la produzione di gomma lacca per cui voi immaginate l'industria si può sopportare una cosa di questo tipo cioè che una materia prima per un anno intero non ci sia per cui le resine sintetiche sono state inventate per questo per sopperire diciamo le lacune delle resine delle resine naturali per poter aumentare la come dire la la durevolezza la brillantezza per poter resistere agli agenti atmosferici cosa che le resine naturali non fanno e sono dei derivati dei derivati del petrolio sono state messe a punto tra la fine dell'ottocento e i primi anni del novecento le prime resine sintetiche sono le resine fenoliche conoscete sicuramente la bachelite la bachelite è una resina fenolica mescolata con degli inerti e si ottengono degli effetti marmorizzati della finta tartaruga sicuramente avrete visto le maniglie di qualche cassettone o delle scatolette fatte proprio con la con la bachelite queste prime resine fenoliche sono sempre mescolate sono sempre usate sono spesso usate ancora con l'olio di lino per cui all'inizio c'è sempre un mix tra resine sintetiche nuove e prodotti invece che arrivano ancora dalla tradizione dopo la prima guerra mondiale compaiono le prime le prime vernici a base di nitrocellulosa e poi negli anni 70 arrivano le resine acriliche che sono le resine che formano diciamo quasi gran parte delle delle vernici all'acqua e delle pitture all'acqua che usiamo noi per decorare per decorare i mobili in realtà sono a base di resine di resine acriliche vedete che spesso usiamo la parola resina e la parola vernice un po' come sinonimo perché per fare la vernice acrilica ci vuole la resina acrilica per cui usiamo anche proprio in laboratorio si usa resina e vernice un po' come sinonimi Aimo mi chiede in diretta se il legno nell'immagine è olmo no è una bete è una bete ed è la superficie di un tavolo che adesso che adesso vediamo io questa sera non riesco a fare questo approfondimento proprio sulle differenze tra vernice pittura fonditura pori saranno cose di cui parleremo in maniera molto approfondita nelle prossime teleconferenze gratuite ma soprattutto nei prossimi corsi che ci saranno dentro ai corsi online per cui dentro ai corsi online preparerò tutta una serie proprio di progetti dove vengono utilizzate le resine sintetiche per ottenere degli effetti decorativi sulla superficie del mobile questo ad esempio è un progetto che vedrete è un tavolo dell'800 che è stato la parte sotto è stata preparata con un fondo all'acqua il coperchio invece è stato lasciato naturale ecco vedi Aimo che non è olmo ma è proprio un abete la superficie del coperchio del tavolo che invece viene finita con una mano di vernice di vernice trasparente opaca e dopodiché impariamo a fare la pittura o usare la pittura e a colorarla cioè a scegliere il colore e impariamo a colorarlo e questo è come si presenta la decorazione la decorazione di questo di questo tavolo tutte queste cose questi approfondimenti arriveranno nei prossimi corsi online li sto preparando in questo in questo periodo e qui vedete il laboratorio come si presenta quando facciamo queste riprese e quel signore con la barba bianca e capelli bianchi sono io proprio mentre faccio faccio questi corsi che trovate nei corsi online va bene io vi ringrazio per essere stati con me questa sera io vi ricordo che tutto questo esiste perché ci siete voi e un abbraccio vi do appuntamento alla prossima teleconferenza in diretta grazie e alla prossima grazie grazie grazie